Apprezzo questa dichiarazione perché è una dichiarazione che viene da un'istituzione romana e assessore regionale all'ambiente, evidentemente ha compreso lo spirito della nostra iniziativa che per carità ben vengano anche le critiche, però insomma credo che si stia comprendendo quanto sia importante puntare su un'impiantistica, poi l'impiantistica più rilevante la faremo negli impiantistir, ieri c'è stato un incontro molto importante con tutti i sindacati e i lavoratori della Sapna, ieri sera dove ho spiegato loro l'importanza strategica dell'impiantistica nella nostra area metropolitana a cominciare dagli impiantistir che possono essere utilizzati ancora di più e meglio e là si farà il grosso del compostaggio, poi avremo piccoli impianti di compostaggio in tutta l'area metropolitana di Napoli, è così bello cominciare da Scampia, dimostrazione che Scampia non sarà più degrado, rughi o abbandono ma invece anche impianti moderni dove il rifiuto diventa una ricchezza, dove si creano posti di lavoro e dove si riqualifica, quindi ben vengano anche dichiarazioni di apprezzamento di chi si trova su sponde politiche completamente opposte.